Se potessimo esprimerci in maniera colorita alla pescarese, per così dire, potremmo affermare che la nuova pescara tutti la volevano. Sì, ma a chiacchiere. Perché poi, oggi, che è il momento di mettere nero su bianco e di darsi all'operatività, ecco che spuntano le richieste di proroga e i consigli comunali che un giorno si fanno, l'altro no, l'altro forse. Per esempio, domani toccherà a Spoltore affrontare l'annosa questione della proroga. Intanto si esprime ufficialmente Confcommercio, che si inserisce nel dibattito per favorire l'attuazione di quanto stabilito da un antico ormai referendum. Confcommercio dice sì alla nuova pescara, ma aggiunge fate presto. Se arrivasse il commissario sarebbe solo la sconfitta della politica. La politica in periodo di tempo si è districata a un dibattito politico di campanile, ed è stato un grande errore, perché si doveva da subito costruire l'unione dei servizi. Quello che dico oggi al Comune di Spoltore, visto che domani loro fanno un consiglio comunale, di riflettere su questo discorso. Leggiamo che molto probabilmente ci potrebbe essere una rinuncia da parte del Comune di Spoltore. Io dico al Comune di Spoltore, dico al Comune di Pescara, al Comune di Montesilvano, di avvicinare la politica spoltorese, di dare le giuste garanzie, perché la nuova pescara senza la città di Spoltore non è una nuova pescara, è un'unione di due comuni, Pescara e Montesilvano. Se la nuova pescara deve essere rappresentativa sotto l'aspetto turistico, noi abbiamo la città di Montesilvano. Se sotto l'aspetto dei servizi del terziario avanzato, c'è la città di Pescara. La parte più importante, dove ci sta la comunità di Spoltore, va garantita sotto diversi aspetti. Sotto l'aspetto della mobilità, sotto l'aspetto anche della valorizzazione dell'asta fluviale. L'asta fluviale di Pescara è al confine con Cepagatti e poi entra nel territorio pescarese, nel territorio di Spoltore e finisce alla foce del fiume. Quando si parla di un piano traffico, non può essere un piano traffico su un budello di città, Montesilvano-Pescara, ma deve essere un piano traffico a triangolo. Mi appello alla politica pescarese e montesilvanese che devono dare le giuste garanzie perché in questo contesto non ci possiamo permettere di farci nominare il commissario perché sarebbe veramente una sconfitta, perché poi alla fine questa legge c'è, la si deve rispettare e quindi se viene il commissario fa un assemblamento di carte e basta. Il territorio pescarese deve essere governato e non se valgemente antropizzato.